Ciao Vittorio, io sono il salutatore, questo è un video, io ti ringrazio e ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono da sempre Beh, dico che hanno delle buone ragioni, perché io in qualche modo testimonia una posizione che è molto chiara e altri invece nascondono le loro posizioni perché hanno paura o sono ipocriti Io invece non ho paura e non sono ipocriti Sei sincero, dici sempre quello che pensi No, adesso pure che pensi delle cose sbagliate, ma dico, rappresento una posizione Ti voglio regalare la manina del salutatore, salutiamo tutti i tuoi fan Te la regali? Sì, sì, il tuo, grazie, ciao, grazie di cuore